Stefano Scipioni, da tre partite non prendete gol. Secondo te il nuovo modulo funziona? Sì, diciamo che con il nuovo modulo siamo più protetti dietro, però perdiamo un po' davanti perché rispetto alle partite precedenti creiamo un po' di meno. Chiaramente questo modulo, avendo due esterni tipo me e Masullo, due terzini, quindi siamo più portati alla fase difensiva che alla fase offensiva, però piano piano cercheremo anche di dare qualcosa in più in avanti. Tu personalmente come hai vissuto il pareggio di sabato scorso? Personalmente io sono uno che gioca sempre per vincere, quindi sia domenica scorsa che col tutto cuoio sono rimasto un po' amareggiato perché erano due partite che almeno una delle due dovevamo vincere, però accettiamo questo risultato e quindi adesso cercheremo di vincere domenica. In vista di domenica come vi state preparando? In vista di domenica sappiamo che la partita è importante, loro vengono da un momento difficile perché vengono da quattro sconfitte consecutive e quindi anche loro non passano un buon momento, noi veniamo da una serie di risultati utili consecutivi e quindi cercheremo di vincere questa partita che per noi è importante. Grazie. Grazie.